addio per due e lui dice ma che cazzo io mi affaccio e vedo sopra di fare cosi Farebulato game therapy alla vita bella di Be tracked Bella vecchi tra le ventughe il mio soggetto Siamo andrai qui con nuovi video di un segreto Siamo qui con un video in segreto Che già ho detto Sono sweet Segreto Ogni volta che sono a casa dei amici mi scappa la platina Non posso fare almeno di provistare nei cestello dei pa scritti Sono strana interconnected E' molto strano Che vuol dire? Cioè ti scappa pipì E tu Mi scappa la cacca E faccio la lavatrice Che vuol dire? Che cazzo di caprice Non capisco il nezzo Capito? Eh non lo so Togli sta mano di merda Non stai calmo Perché sono tutte donne? Che è la giornata donne? Ok Ah sai cosa? Ho fatto troppo rite L'ho letta al volo Cioè in realtà è brutta però E da quando è morto mio padre Che non mi lavo Cioè perché? Poi PS E' morto ieri Sono stato all'ospedale fino a oggi Oggi mi sono pastorbato Su uno dei classici Zitti di camgirl Cioè ero una cazza Sexy e provocante E bella Soprattutto eh 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 Mi ci sono Segrato per quasi un'ora Solo dopo ho scoperto Che Un bambino di pochi mesi Quando sono Che cazzo di ridi? Perché il bambino di pochi mesi fa ridere Parca troia Un bambino di pochi mesi Quando sono sola in casa Bevo il latte Dal suo biberon Perché mi piace un sacco Spero non lo venga a sapere mai nessuno Altrimenti potete andare proprio per matta I miei genitori E incolpano sempre il mio fratello Di undici anni Di spendere troppo internet Essendo lui un patito di video su YouTube Se solo sapessero che i gigabyte Li spendo io Come si fanno a spendere dei gigabyte Guardando porno Vabbè spendi Sempre su YouTube Ad Halloween Inzacchettavo le merda dei miei gatti Le dava anche in suonava Non è ottico D'accetto scherzetto D'accetto Ah grazie Ripose il piccolo Gianni Morandi Mi piace vestire la sedia di camera mia Sendermi sul letto e fare finta che sia una psicologa Raccontandoli della mia vita Mi fa sentire un po' meno solo Cioè questo parla con me Sì Mi immagino se poco poco Mi fossero delle telecamere dentro Quanto si taglia la madre Ma più che altro Perché la vesti Un po' fa finta e basta Cioè devi mettere giù un bottino Come fai a mettere i pantaloni Una sedia Vesti una sedia Vabbè cose Cose segrete Vivo in una grande città del nord In un elegante palazzo del centro Molto chiccoso Milano Il vicino sopra è un calciatore Che si vede su riviste di gossip Per le sue frequentazioni femminili La sua camera da letto O magari si vede anche su Sky La sua camera da letto è sopra la mia È vero che tromba tanto Ma dura 30 secondi Vabbè però dipende Preferisci la qualità o la quantità Hanno bruciato i cardi Per me e lui Per i cardi Sì I cardi Ogni mattina esco dal balcone Sputo sulla macchina del mio vicino C'è chi la mattina Calcola no una volta Oddio mi sono sentito troppo in colpa Perché Stavo con gli albani Addirittura col felice Mi affaccio Cioè stavo a fumare Ma faccio sputo C'era un pelato sotto C'era un pelato Cioè io calcola Io sputo tranquillamente Sti cazzo d'uccelli E poi sento Paff Ma che cazzo Io mi affaccio E vedo sopra E mi fa così Sti cazzo scappa dentro casa Ho detto no Mi sono sentito troppo in colpa Però porco Mazzate che mira Non savi te Puh No look Oddio Ti immagini Ma poi era proprio scoccia Era proprio caricata Così E qui si pone il dilemma Meglio lo sputo O una cagata d'uccello Ma sai che era meglio Cagata d'uccello Te lo dico io Era proprio grosso Sto sputo Ma io immagino Lui ha fatto in mezzo Sto uccello di merda Sì E poi vedi E tutto Ah è schifo Poraggio A capo d'anno Lanciando dei petardi Ho dato fuoco Al giardino di casa Dove erano poste Piante secolari Mio padre sta ancora Indagando sui coltelli Sherlock Holmes Sul padre Sai proprio Immagino Calentina Che cazzo Questa è stato Che cazzo 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 Ma ce l'ha mio figlio Sono un youtuber Abbastanza famoso Ma non sono fidanzato L'altro giorno Ho suonato il mio campanello Per una ragazza Emilia Ce l'ho fatta salire volentieri Mi ha chiesto il microfono Per registrare un audio Per un video Di auguri Per il suo nuovo ragazzo Pianto tutta notte Questo è righe Ogni volta che sono a cazzo Stano a picciannaca Le volte sono a cazzo Con i miei genitori Ci ho messo i genitori In vicenza poetica E stiamo guardando un film E ci sono delle scene Di nude o di sesso Prendo il gatto E lo metto sopra il pene Per maschera La direzione Scusa gatto No si chiama John Fouffer E si era traumatizzata a vita Sono uscito alcune volte Con una ragazza incredibilmente bella Contesa e sessualmente attiva Che di contesa? Che stava in mezzo Cioè è uscito lui E tutta amice Era palla contesa Quindi vantaggio Contesa e sessualmente attiva Nonostante fosse perfetta E brava a letto Puzzava costantemente di sudore Sarà anche una dea Ma puzzi peggio Di uno spogliatoio maschile E' brutto quando è così Quando alle medie andavo in palestra Dicevo alla prof Che andavo in bagno In realtà Ti ritornavo in classe Distruggevo Pagine di quaderni E diari A quelle stronze Delle mie compagne Che facevano tanto le vive Andate a fanculo Pronte stronze Cessone E che riflesso Perché Perché ci stanno Sti segreti Sono una escort Da quando avevo 18 anni E ne vado fiera Tutti mi dicono Che ho perso la mia degnità Non mi importa Quella degnità In Italia non si sopravvive C'è ragione Serve la figa Per fare i video di FIFA La settimana scorsa Ieri dei miei amici Eravamo in giro in motorino Tutti in giro sul motorino Dato che c'era anche un ragazzo Che mi stava sul cazzo Quando si è avvicinato Ho imitato Rossi E gli ho tirato un calcio Facendolo finire in un fosso Non ho rimpianti Secondo me erano rimpianti Quando avrei tempo Di pensare in galera Sì sei proprio X Factor Wow Ho visto un marbone Seduto per terra Come? Mia sorella Ha paragonato Game therapy Alla vita è bella Di Bichini Oh 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 Di Vremone Non gli parlo da per giorni Onesto Di Vremone Non so vabbè C'è una sottospecie di calcio Tutto rispetto a Game therapy Però Regà la vita è bella E la vita è bella Ho incontrato Zepp89 Allucca Comics Cosa ho fatto? Gli ho spostato sulle scarpe Così imparò a fendere League of Legends Questo è il giocatore In mezzo di League of Legends Io direi che per questo episodio Dell'In Segreto Stavate per rotto Di Vision One Se vi è piaciuto Questo video Lasciamo 5.000 like Ci becchiamo Al prossimo video In segreto Se non terminiamo A 5.000 like Non lo facciamo Parca puttaria Ciao E quindi Ciao Ciao Addio Goccoloso